Buongiorno, good morning Milano! 7.07, giovedì 29 febbraio. Pensate, potrò ridire questa fase solo fra quattro anni. Ebbene sì, è quel giorno speciale. Oggi è il giorno speciale che c'è ogni quattro anni e oggi dobbiamo vircelo al meglio. Pensate, è quasi un dono se pensate. Altro che anno bisesto, anno funesto, tutte queste cose qua. Io ho nato nel 1980, anno bisesto, tra parentesi. Ma bene, bene, cosa state facendo? Dove state andando? 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Iniziamo la nostra mattinata insieme. Oggi quanti di voi sbaglieranno a dire la data? Quanti diranno che il giorno è oggi, il primo marzo? No, il 28 febbraio? No, è il 29 febbraio. E lo potete passare tutto il giorno con Cristal Radio e iniziare la mattina con noi di Good Morning Milano. in diretta fino alle 9 e poi potete trovarci sul nostro sito internet goodmorning.milano.it in cui potete riprendere tutti i pezzi della nostra smissione, riascoltarci e rivederci. Perché sì, siamo in podcast ma anche in video podcast, sia sul sito, su YouTube, ma anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Insomma, ovunque voi ci cerchiate, noi ci siamo. Basta scrivere il Good Morning Milano e ci trovate. E soprattutto ci trovate la mattina qui in diretta su Cristal Radio 96.2 FM, Dub Plus e poi c'è l'app di iOS e Android che vi invito sempre a scaricare la app di Cristal Radio. È fondamentale perché ovunque voi siate non ci sono problemi, basta accenderla. E potete ascoltare la grande musica di Cristal Radio e tutte le notizie che vi diamo anche durante il Good Morning Milano ogni giorno qui in diretta. E allora partiamo con la musica, partiamo con qualcosa di speciale. Anche noi quest'oggi è un giorno speciale. E allora prendiamo, inforchiamo la nostra 50 special e andiamo su e giù per i colli bolognesi. Oppure possiamo andare in giro sulla circonvallazione se volete. E questi erano i Lunapop con 50 special. Eh sì, Cesare Cremonini e il suo gruppo, i Lunapop, primo disco dei Lunapop Squareets. Grande successo nel 1999, pensate. Ebbene sì, comunque grazie al 3317853555. arrivano già i primi Whatsapp. Arriva un bel buongiorno che, anzi, invito tutti quanti adesso ad andare su YouTube a guardare la nostra diretta o su Twitch perché sta per succedere qualcosa. Che cosa? Un saluto allo zio Fabio e a tutti i Cristallini in ascolto. Oggi giornata di tregua dal maltempo. Eh sì, tregua finalmente. Oggi il maltempo ci dovrebbe dare tregua. Almeno fino a sera. Poi sera potrebbero tornare qualche rovescio. Facciamo la conta dei danni sulle strade. Questo dopo lo chiediamo anche a Luce Verde che magari ci dirà come sta andando. Ma questo messaggio di buongiorno era allegato, cioè accompagnato da un'immagine molto molto interessante. Un quadro di un vecchietto con un cappello, un bicchiere in mano di vino, una bottiglia, una finestra dietro con appese dei contenitori di rame al muro. Il famosissimo Teomondo Scrofalo. E io vi sto per far vedere che il Teomondo Scrofalo è qui in studio con noi. Eccolo. Invito tutti quanti ad andare in questo momento su Milano News, su YouTube, a vedere che il Teomondo Scrofalo è qui con me di fianco in questo istante qua. Ve lo ricordate? Eh? L'asta tosta per tutti i gosti. Ve lo ricordate? Eh, famoso Ezio Greggio, Drive-In, 1988, giù di lì, no? Era il famoso quadro che Ezio Greggio cercava sempre di piazzare all'interno delle sue aste. Grande momento. Io ringrazio Alberto per questo momento. Oh, ma ricordo, ti sblocco un grandissimo ricordo. Teomondo è qui con noi e rimarrà sempre qui con noi. Grazie Alberto. Grazie per questo ricordo fantastico. Andate a cercare Teomondo Scrofalo. Ezio Greggio qualcosa veramente di pazzesco. Lo dico anche alle nuove generazioni. Eh sì, sì, eccolo qua. Lo metto qui davanti a me. Teomondo Scrofalo. Beh, andiamo avanti perché parlavamo invece di traffico e dicevamo, insomma, anzi, di danni sulle strade. Tanti in questi giorni abbiamo visto, insomma, buche, allagamenti, piazzali interi sommersi dall'acqua e quindi, insomma, si ceda a fare un po' la conta di quello che è successo. Oggi, per fortuna, dicevamo, giornata di tregua e quindi non avremo grossi problemi a muoverci nella zona milanese. O meno speriamo perché, appunto, il traffico si sta intensificando su tutta la rete stradale, autostradale, tangenziale, comunale, provinciale e chi più ne ha più ne metta, ma per saperlo meglio, per capire al meglio come poter affrontare una giornata in cui il traffico la faccia da padrona, come quasi sempre, c'è anche da dire questo, nella nostra città, bene, allora noi abbiamo il nostro asso nella manica. Sì, sapete chi sono? Dai, che non mai avete imparato a conoscerli. Qui sono gli amici di Luce Verde che ci danno, in tempo reale, una fotografia, ma, anzi, una gif, una gif animata, se proprio stiamo a guallare, insomma, dipende quanto traffico c'è, se è animato o no. Comunque, una fotografia di quello che sta succedendo in questo istante, proprio oggi, adesso, è 7-15 minuti, sulle strade milanesi e lombarde. E allora io do la linea a Luce Verde per il traffico. Luce Verde! That or Alive, You Spin Me Around. Ho 7-19 minuti. Beh, un piccolo noto a margine, erano i Dead or Alive, non hanno portato molto fortuna al leader di questo gruppo, che si chiamava Pete Barnes, che è morto nel 2016, sono gli 57 anni, quindi il titolo, il nome del gruppo, insomma, è stato un po' Dead or Alive, insomma, era solo Dead, mi spiace. Povero Pete Barnes, ha dato un grande contributo alla musica con questa You Spin Me Around, insomma, molto, molto, molto famosa. Allora, non abbiamo dimenticato di dare notizie, anzi, lo sapete, se vi siete già svegliati, avete già notato che tutti i giornali ne stanno parlando dell'immenso incendio di Trucazzano, che ancora, comunque, è sotto controllo, ma ancora alti nubi e grandi fiamme stanno uscendo dall'azienda che, appunto, ha preso fuoco nella notte in quelli di Trucazzano, stiamo parlando della zona nord-est della città, appena appunto fuori Milano, timori, timori per la nube di fumo, Arpa ha diramato un'allerta e ha detto evitate di stare all'aperto, quindi sono in corso, appunto, gli accertamenti sulle materie che stanno bruciando, sono materie plastiche, quindi attenzione a quello che si respira, se appunto siete in quella zona, c'è da dire che la colonna di fumo e le fiamme si sono viste praticamente da ogni parte della città, praticamente tutto il milanese ha potuto vedere quella altissima colonna di fumo che si sta alzando dall'azienda, appunto, di Trucazzano, che, appunto, consiglio ancora quello di tenere chiuse le finestre, sono state nove le squadre di vigile del fuoco che sono impegnate ancora adesso per spegnere il rogo, non ci sarebbero feriti o intossicati, l'azienda, appunto, che ha preso fuoco tratta materie plastiche e quindi bisogna stare molto, molto attenti a quello che sta succedendo. Ne parlano praticamente tutti i giornali, ci sono video impressionanti su tutti i giornali, su tutti gli siti, da Milano Today, a Repubblica, a Corriere, a tutti gli altri giornali locali, ci sono anche arrivati dei rinforzi, oltre alle nuove squadre di vigile del fuoco di Milano, sono arrivati rinforzi anche da Monza e Bergamo, ancora al momento, appunto, non risultano persone coinvolte, speriamo che sia così e vada avanti ancora, adesso però comunque cercheremo di dare aggiornamenti con anche, collegandoci, noi abbiamo un collegamento in redazione con la centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano che comunque sicuramente ci ha parlato degli aggiornamenti, adesso mentre stiamo parlando vedo appunto che stanno arrivando gli aggiornamenti, quindi cercheremo di darveli appena possibile, così che possiate anche stare un po' più tranquilli, perché davvero il rischio di intossicazione è molto alto, le materie che stanno prendendo fuoco sono materie plastiche, come dicevo qui, insomma, non è proprio un roghetto da poco, l'azienda è veramente grande e una grandissima parte di questa azienda sta andando a fuoco da questa notte, quindi attenzione se siete nella zona, ripeto, arpa consiglia, rimanete chiusi in casa, non uscite e cercate di non respirare quell'area che potrebbe essere potenzialmente dannosa, man mano nella giornata, man mano nella mattinata, sicuramente arriveranno tutti gli aggiornamenti del caso e noi staremo qua a darveli. Siamo qua anche però a cercare di darvi un po' di musica per cercare di sollevare anche un po' la giornata, soprattutto se uno esce di casa e vede certe scene forse ha bisogno anche di una spinta e noi cerchiamo di darvi quella spinta qui su Crystal Radio. Un po' di buona musica, poi torniamo ancora qui con le altre notizie di giornata e poi anche gli ospiti che ci raggiungeranno qua durante la mattinata fino alle 9 in diretta qui su Crystal Radio. Good morning Milano, come sempre, qui. Click, boom, Rose Villain, 7 e 31 minuti, buon giorno ancora tutti quanti, come state, come va? 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, arrivano altri whatsapp questa mattina, la mattinata è complicata da quanto ho capito, è difficile, infatti, buongiorno da quella di Bergamo, buongiorno, oggi giornata doppiamente impegnativa, ecco, vedi, stamattina uscita didattica con una prima media, vabbè dai, 2,5 km a piedi, con 25 ragazzini di 11 anni per arrivare a visitare una biblioteca e stasera riunioni di condominio. Non so cosa sia peggio delle due cose, se 25 ragazzini che devi far camminare per 2,5 km per portarli a una biblioteca, che questi qui tutto hanno voglia alle 7.30 del mattino, tranne che di andare a una biblioteca, secondo me è così a occhio, non vorrei sembrare razzista verso i ragazzini di 11 anni, ma secondo me, come dire, facciamo 8,5 km per andare a fare colazione al McDonald's, ecco, forse lì ce la fanno, facciamo 300 metri per andare a vedere una biblioteca, secondo me questa è la reazione. Comunque, vabbè, e la riunione di condominio serale, bene, bene, è come concludere bene la giornata. Le riunioni di condominio dovrebbero essere una roba, boh, vietata dalla legge, altro che, c'è una cosa dove no, non si può fare, per il bene dell'essere umano vanno tolte, vanno, no, niente, non si può fare, mi spiace, lo facciamo per il vostro bene, niente riunioni di condominio, e invece ci sono anche quelle, 331-78-535-55, potete scriverci, raccontarci appunto come sarà la vostra giornata, speriamo meglio della nostra amica di Bergamo, perché siamo con te in questo momento, siamo solidali con la tua giornata, e invece, visto che abbiamo parlato con, prima abbiamo parlato luce verde, abbiamo parlato il traffico, abbiamo parlato della città, abbiamo parlato anche di come, insomma, magari ci sono anche difficoltà nel girare in città, dopo le grandi piogge, ma attenzione anche a come girate in città, perché oggi, giovedì 29 febbraio, leggiamo da Milano Today, dove viene pubblicata settimanalmente, una lista delle postazioni autovelox mobili, che la polizia stradale metterà giù in città, o in zone limitrofe, e infatti, oggi danno sotto, oggi ci sono un bel po' di postazioni, ve le vado a leggere, in realtà in tutta la Lombardia, nel senso che sono a Milano, allora, autostrada a 7, Milano-Genova, verso Pavia, cioè verso, nel senso che sono vicino a Pavia, non dice ovviamente dove e come, già ve lo dico, ci sta, già vi dico che ci sarà l'autovelox, vi dico anche a che chilometro, in che direzione, mi siamo poi esagerato, diciamo lì, autostrada a 7, Milano-Genova, dalle parti di Pavia, l'autostrada a 35, Milano-Brescia, all'altezza vicino a Brescia, tangenziale a 51, che è la tangenziale est di Milano, ovviamente a Milano, statale SS 342, Briantea, dalle parti di Bergamo, poi la statale SS 9, la via Emilia, per intenderci, dalle parti di Lodi, e la provinciale, SP 671, della Valle Seriana, sempre in quel di Bergamo, questi sono le postazioni immobili, degli autovelox di oggi, occhio, che però ci sono sempre, le postazioni fisse, della polizia stradale, che dove sono, SS 336, Superstrada per Malpensa, due direzioni Ovest, e uno a Cardano al Campo, provincia di Varese, poi a uno in Veruno, i due in direzione Est, all'onate Pozzolo, e Meseno, quindi insomma, che secondo me è mesero, non sbatto a schifere, secondo me è mesero, non è meseno, è mesero, c'è un errore di battitura, quindi io ve l'ho detto, quindi state attenti, se volete girare in città, o fuori, occhio a tutto quello che è il traffico, come ci ha detto Luce Verde, ma anche occhio agli autovelox, che sono stati installati oggi, copiosi in questo giovedì 29 febbraio 2024. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, quanto avete cantato, quanto avete aperto i finestrini a squarciagolo, avete cantato, e soprattutto quanti di voi hanno pensato a Giorgio Panariello? Dai lo so, lo so, lo so che l'avete fatto, c'è poco da fare, dai, lo so che l'avete fatto, avete fatto anche le mosse, con le mani, eh sì sì, avete fatto la voce, eh, così l'avete fatto, sicuro, dai, dai, non dite di no, perché lo so che l'avete fatto. Comunque, tante notizie che stiamo leggendo dai giornali questa mattina, non solo di viabilità si vive in questa città, però intanto poi comunque, stiamo anche monitorando le notizie che arrivano dall'incendio di Turcazzano, che appunto, come dicevamo, ha iniziato ieri nel tardo pomeriggio, tutta la notte è nata avanti, e ancora adesso sono le squadre del BG del Fuoco che stanno lavorando proprio lì in zona, sta bruciando della plastica, plastica che è stato trovato anche nel pane in mensa, ebbene sì, andiamo a leggere da Repubblica Milano, plastica nel pane in mensa, Milano Ristorazione ritira il pane integrale da scuole ed asili, verifiche dopo i frammenti scoperti in un panino, quindi pane, un panino, perché si fa pane, tutto il pane, un panino, ok basta, la società comunale dice, ritirato il pane non ancora distribuito, anche se non è stato trovato alcun corpo estraneo, un frammento di plastica o materiale similare ritrovato insieme al pane, ha costretto Milano Ristorazione a ritirare dalle mense di alcune scuole elementari, dell'infanzia ed asili nido, il pane integrale che avrebbero dovuto servire appunto nella giornata di ieri, la società comunale che gestisce le mense scolastiche di Milano ha avvertito le famiglie con una comunicazione, la quale spiega di aver condotto le prime tempestive verifiche presso la cucina della scuola, oltre che presso il fornitore, per valutare un'eventuale non conformità, comunque Milano Ristorazione ci sta, nel senso hanno ritirato tutto il pane, non ancora distribuito pane integrale, ma dalle prime verifiche che si hanno messo a aprire i panini uno dopo l'altro non hanno trovato un altro pezzo di plastica, quindi come si fa in questi casi? Quanto pane abbiamo buttato via perché in uno c'era un pezzo di plastica? Ma soprattutto è così pericoloso? Boh, perché se quel pezzo di plastica andava in gola a un bambino, effettivamente non so come... C'è da dire che un bambino non si accorge che c'è un pezzo di plastica nel pane, non so, so che a volte sono un po' troppo facilone, non si, non si, non si accorge che c'è... Non lo so, nel senso, peccato, peccato che tutto questo pane è buttato via, bisogna capire anche cosa è successo. Poi i giornali ci marciano perché dice l'episodio richiama subito alla mente quello che ho avuto lo scorso marzo, quando uno studente di Quinta Elementare, però ecco, se Quinta Elementare non ti accorgi di quello che sei, trovò un bullone di metallo all'interno del panino, parte del pranzo al sacco fornito dalla municipalizzata, vicenda questa che portò alla dimissione dell'allora presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo. Sì, io poi adesso, lo so che, ripeto, sarà forse un po' troppo facilone tutto, ma quanti panini vengono prodotti ogni giorno in quella roba lì? In uno, due, in un anno è successo un problema che, tra parentesi, è stato subito risolto, cioè, ma ti accorgi, dai, adesso, anche se sei un bambino di tre anni ti accorgi che c'è tutta una roba che non puoi mangiare, poi la mangi lo stesso perché sei un bambino, va bene. Ma come dire, adesso vedrete che d'ora in avanti le maestre saranno costrette a tagliare il panino a tutti i bambini, così poi i bambini, quando saranno degli adulti, non sapranno neanche più tagliare il pane. Va bene, scusate, so che sono un po' populista in questo momento e qualunquista, però veramente, pensare allo schifo che mangiavo io all'elementare o all'asilo, va bene. Scusate, polemica chiusa, giuro, prometto che non ci ritorno, anzi, che noia che vi ho fatto venire, va bene. Eh sì sì, ve lo dice anche lei, Angelina Mango, la noia. Total, Angelina Mango, la cumbia della noia, no, la noia basta, si chiama Eurovision, ragazzi, Eurovision con lei, chissà come andrà. Io penso che tutto il mondo latino potrebbe essere ispirato, so che è un po' populunquista come roba questa qui, però a me i suoni potrebbero richiamare un certo tipo di pubblico, non so, e poi ricordiamoci sempre che abbiamo i paesi dell'est che tifano spesso per noi, che hanno voglia di ballare, che hanno voglia di vedere una bella ragazza che canta, che hanno voglia di cantare l'italiano. Secondo me, beh, così, non lo so, eh. Com'è che dicevano, non succede, ma se succede, ecco, così dicevano sempre, va bene, vedremo, chissà, chissà, chissà. Andiamo avanti a leggere da Repubblica Milano, invece. Abbiamo parlato di bambini che si mangiano plastica o bulloni nei loro panini, invece in questo caso parliamo di liceo scientifico Bottoni, perché parliamo del Bottoni, quello di Mac Mahon, perché ne parliamo? Perché è occupato il liceo scientifico Bottoni di Milano, così titola Repubblica, gli studenti fanno uscire preside e professori. L'obiettivo è proseguire la protesta fino a venerdì, beh, ieri era mercoledì, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, tre giorni, non è male. Vogliamo essere protagonisti del cambiamento del sistema scolastico, però la preside ha risposto, sapete che vi dico? No, questo l'ho aggiunto io, però c'è un virgolettato che vuol dire, sapete che vi dico? Non dormirò qui di notte, la responsabilità è loro, quindi vediamo cosa succederà adesso, stamattina sarebbe carino fare un giretto da quelle parti. Proseguono quindi le mobilitazioni delle scuole milanesi, questa mattina appunto, cioè ieri mattina scusate, si sono aggiunti quelli del liceo Bottoni, che si sono aggiunti al Manzoni, preso invece l'altro ieri dagli allievi, quindi il liceo di via Mac Mahon è il quinto istituto ad aderire alla staffetta di protesta avvenuta, avviata scusate dal Severi Correnti, e poi proseguita appunto Virgilio, Beccaria, Manzoni e adesso Bottoni, cioè non stanno occupando tutti insieme, cosa fanno? Si fanno una sorta di tre giorni io, tre giorni te, tre giorni l'altro, così che ci sia sempre una scuola in agitazione e in occupazione. Mi piace, mi sembra una bella idea, devo dire la verità. Posso dire che questi ragazzi a me mi stupiscono sempre, ma in realtà non sono anche più stupiti, cioè hanno delle belle idee, posso dirlo. Poi andiamo a capire, ci abbiamo creduto tutti che potevamo essere, come è che dicono, protagonisti del cambiamento del sistema scolastico. Ci abbiamo creduto tutti, forse, mi viene da dire, non ci abbiamo creduto abbastanza. Chissà che magari qualcuno di loro ci possa credere abbastanza e farcela. Sarebbe davvero interessante. Poi lo so che non è che possiamo fare, rifare tutto il sistema scolastico solo sulle richieste degli studenti, perché ci sono anche le richieste dei professori, ci sono anche le richieste della logica, le richieste della didattica, degli psicologi, dei pedagogisti. C'è un mondo dietro con la scuola che andrebbe ascoltato. Ecco, andrebbe ascoltato però. Invece troppo spesso, troppo volentieri, non si ascolta. Si fa invece tanta propaganda politica sulle scuole, soprattutto durante le elezioni, durante le campagne elettorali. Si fanno tante promesse e si dice che tutto cambierà. Poi il dramma, qual è che veramente cambiate tutto, perché ogni volta arriva qualcuno e cambia qualcosa, ma quel cambiamento crea sempre grandissimi danni. Perché? Perché non si ascoltano le parti in causa. Perché non si ascoltano le parti in causa, non si ascoltano i professori, non si ascoltano i sindacati, non si ascoltano in primis però. E qui sti che gli do un posto di privilegio all'ascolto almeno, bisogna almeno ascoltarli, gli studenti, che sono fondamentali, che sono quelli che poi sono i fruitori, sono i clienti e sono quelli che vanno a prendere quel servizio e per 10-15 anni rimangono in quel sistema. Quindi insomma, anzi, ben più, è importante. Foo Fighters con The Glass, 7 e 54 minuti, e lo sapete, questo è l'ora del giornale radio. Adesso ci fermiamo per qualche minuto. Una canzone, il giornale radio, poi la Crystal History, quindi la grande canzone, la grande musica, sempre qui su Crystal Radio, e poi torniamo qui, è giovedì, e ovviamente, lo sapete, si parla di teatro. Quindi siamo pronti a parlare con voi di teatro, con Tamara Malleo, ma anche altri ospiti che ci raggiungeranno qui durante la mattinata, sempre qui in diretta fino alle 9. E quindi andiamo con la musica. Questo è Gali con Casa Mia. Bananarama con Venus, 8 e 08, ben ritrovati dopo il giornale radio, dopo il Crystal History, appunto, delle ore 8. Quindi siamo qui, come sempre, su Crystal Radio Good Morning Milano per raccontarvi quello che succede in città e, come tutti i giovedì, dobbiamo dare il benvenuto a Tamara Malleo. Buongiorno, Tamara. Buongiorno, buongiorno Fabio. Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Crystal Radio e Good Morning Milano. Allora, ci dobbiamo a teatro. Come stai, come stai, come stai, come stai, Tamara? Stai bene? Bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Bene, bene, bene. Iniziamo la nostra mattinata parlando di teatro. Sono sempre molto contenta. Abbiamo tre appuntamenti molto interessanti, anzi, perché interessanti è un po' vago. Sono tre appuntamenti molto diversi fra loro, in tre teatri della città, così ti piacciono, che sono dislocati in tre aree diverse della città, così potete attraversarla. Allora, partiamo subito dalla zona... Attraversatela in tram. Secondo me la cosa più bella di Milano è attraversare la città in tram. Proprio è bello. Bello, è vero. Vi apre il cuore, vi apre. Sì, devo dire la verità, sì. L'ho fatto... Poi c'è il tram, adesso mi ricordo il numero, forse è il 33 che attraversa la città. Adesso mi ricordo il numero. Ce ne sono un paio, sì, sì. L'ho attraversata. Anche il 19, il 19 fa un bel giro. Questo è il 19, sì, è ragione, forse il 19. Allora, andiamo sui Navigli, ad Altaluce Teatro. Abbiamo già parlato di questo teatro che accoglie spettacoli, diciamo così, di varia natura, e in questo caso venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo arrivano in teatro Silvia Giulia Mendola che è un'attrice meravigliosa, fondatrice della compagnia Piano Invilico che insieme a Jacob Eventi e Angelo Di Figlia, che è il suo partner in questo spettacolo, porta in scena un grande classico, coppia aperta quasi spalancata, testo di Franco Rame e Dario Fo. Non è male questo lapsus, Franco Rame e Dario Fo, visto che la coppia è aperta quasi spalancata, ci stava, giusto Tamara? Non è male, sarebbe da pensare di scriverci un pezzo, complimenti. Bello, potrebbe essere. Bello, bello, bello. Lo dirò a qualche attore-attrice. Allora, Franco Rame e Dario Fo sono assolutamente, come sappiamo, attualissimi nei loro spettacoli, nel senso che loro hanno scritto spettacoli per un altro periodo storico e per un'altra epoca, ma in realtà riportati nel nostro presente non c'è grande differenza, diciamo così, ci si può ritrovare assolutamente. In questo caso si parla di coppia, si parla di relazioni, si parla di quanto una persona vede nell'altro, no? La propria libertà, la libertà dell'altro, di come le proiezioni nel rapporto d'amore possono in qualche modo essere molto, diciamo così, difficili da gestire e di come ci si riscopre in sé attraverso il rapporto con l'altro. In questo caso, appunto, Silvia Giulia Mendola, che è un'autrice, oltre che un'attrice molto brava, ha riportato anche una sua, diciamo così, visione artistica attraverso questo grande classico e quindi insieme ad Angelo Di Figlia, che peraltro è un attore diciamo molto noto nel mondo del musical, in questo caso è un bravissimo attore di prosa, proprio perché noi ci teniamo a dirlo, il teatro è teatro, non c'è divisione tra, diciamo così, tra musical, tra teatro di prosa, tra teatro di danza anche, e quindi c'è una visione complessiva del teatro e l'attore o l'attrice, se è brava, può fare tutto, diciamo così, nel senso che si manifesta nelle varie forme del teatro, quindi vi diamo l'appuntamento il primo e il 2 marzo a Alta Luce Teatro, che si trova appunto sui Navigli, con Silvia Giulia Mendola e Angelo Di Figlia. Invece poi ci spostiamo in centro città, perché andiamo al teatro Menotti, che si trova in zona Piazza Risorgimento, si raggiunge con la metro blu o con la metro rossa San Babila, sono dieci minuti a piedi. A me piace tantissimo sta cosa, Tamara, che mi ricordo, ai primi collegamenti, ti ho detto, quando diciamo, magari diciamo dove sono, ormai siete al meglio di Google Maps, cioè, mi piace che sia, allora io lo dico a chi ci ascolta la casa, bravissima, ma lo dico a chi ci ascolta la casa, cioè, mai dare un compito a Tamara Malleo, perché ve lo farà perfettamente, neanche bene, cioè, proprio perfettamente, quindi, devo stare attenti a quello che si chiede a Tamara, quindi, io grazie Tamara. chiedimi una cosa e vedrai che... ti ringrazio, no, no, mi piace tantissimo sta cosa, potremmo venire a metro rosso, oppure scendere 400 metri svoltate a destra, quindi, no, grazie Tamara, questo è anche più preciso, perché, tipo, quando vedete il palettiere, girate a sinistra, poi chiedete alla signora Luisa, che sta lì all'angolo, e poi potete così, no, va bene, no, scusa, grazie per la tua precisione. No, beh, così aiutiamo anche i telespettatori, scusate, i radioascoltatori, le radioascoltatori. Ma sì, ma c'è tutto, ci guardano anche in tv, ci guardano anche in web, ci guardano ovunque, va benissimo. C'è gente che ci cerca anche alla fermata dell'autobus, ma non ci siamo, quindi, va benissimo. Ah, prima o poi. Prima o poi. Allora, il teatro Menotti, da vedere, perché l'ho visto anch'io e ne sono rimasta molto entusiasta, Orazio, che il nuovo lavoro di Paolo Mazzarelli, Paolo Mazzarelli è un attore di teatro, ma è molto conosciuto anche nel mondo del cinema, ha fatto molti film con Paolo Sorrentino, insomma, è un attore molto affermato, che ha lavorato, e che continua a lavorare, con Lino Musella, con cui fa appunto, porta avanti un lavoro in collaborazione, ma porta avanti anche un lavoro singolo, diciamo così, suo personale, è un autore, attore, regista, e in questo caso, Orazio è uno spettacolo che parte, ispirato dall'Amleto di William Shakespeare, lui ama moltissimo i testi di William Shakespeare, riportandoli poi in una visione, diciamo così, ridisegnata dalla sua mente, qua si parte appunto da Orazio, che è l'amico più fidato di Amleto, e si fa un parallelismo con invece il mondo di oggi, perché i protagonisti sono due ragazzi, una ragazza, che devono mettere in scena uno spettacolo per salvare la stagione di un teatro che deve riaprire, che ha come direttore artistico il padre di questa ragazza, che è un attore ormai, diciamo così, un attore che vuole tornare sul palco, un attore cinquantenne che vuole tornare sul palco, si affida a questi giovani ragazzi, e in realtà andrà diversamente rispetto al suo progetto iniziale, qua si inserisce Shakespeare con le sue grandi parole, perché appunto l'amleto ci porta nei grandi dubbi, e nelle grandi riflessioni sull'umanità, ed gli attori in scena sono Antonio Bandiera, Beatrice Vento, Francesco Jacopo Provenzano, insieme a Paolo Mazzarelli, che in qualche modo con grande generosità lascia al palco il proscenio ai giovani di questa compagnia, e la cosa che mi è piaciuta moltissimo è che prima di tutto consegna questo testo agli spettatori e alle spettatrici, quindi non c'è una chiusura, diciamo così, in cui ti si dice che cosa devi pensare, ma in realtà, diciamo accompagnando le parole di Shakespeare, ci consegna una visione, e in questa visione noi dobbiamo ritrovare delle riflessioni, l'ho trovato bellissimo, e in qualche modo è forse un modo per trovare una forma di collaborazione tra generazione dei cinquantenni e le nuove generazioni, quindi per permettere a chi ha dell'esperienza di mettersi a disposizione di chi ne ha di meno, e però mettere anche in connessione le visioni di un giovane che si affaccia al mondo lavorativo, anche al mondo in generale, e una persona che ha un'esperienza, che ha fatto già un percorso, insieme si va verso un futuro, interessante direi, di visione comune. Infatti direi che lo scuso generazionale, tutte queste cose qua che raccontiamo spesso, insomma è anche bello vederle magari messe in scena a teatro, va bello, interessante, molto molto interessante. Quindi Orazio Teatro Menotti fino a domenica, e poi chiudiamo col Teatro F. Puccini, siamo in Corso Buenos Aires, Metropolitana Rossa, Porta Venezia, Olima. Di fianco alla Feltrinelli, andiamo a un po' di riferimenti, sebbene la gente ormai lo sa, va bene? Allora, in questo caso è il nuovo spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che sono direttori artistici, Ferdinando Bruni e Elio De Capitani sono direttori artistici del Teatro F. Puccini, Francesco Frongia fa parte della famiglia del Teatro Elfo Fuccini, firmano appunto lo spettacolo e loro, lo firmano e in scena ci sono Corinna Agustoni e Luca Toracca, che sono due attori di tradizione del Teatro Elfo Fuccini, e Maria Cagianella Villani, che è una nuova attrice, perché diciamo così è della nuova generazione, e anche qua la generazione, diciamo così, degli attori affermati con la nuova generazione che si relazionano tra loro e si parla di Peter Pan, ma in una versione, diciamo così, non dico nuova, perché in realtà non è nuova, perché lo spettacolo si chiama Peter Punk, tutta la verità su Peter Pan, quindi ci allontaniamo dalla visione di Walt Disney, di Peter Pan, e invece ci avviciniamo alla versione di Barry, quindi una versione originale del testo, in cui c'è un Peter Pan un po' scuro, e c'è un Peter Pan che è nascosto un po' dentro ognuno di noi, e quindi ci sono in scena due anime che vivono in una casa di riposo, e che quindi questo Peter Pan lo tengono dentro per in qualche modo mantenere viva il loro spirito, per mantenere vivo il loro spirito. Volevo dire che in questa versione ci sono le musiche originali e le canzoni originali di Maria Cagianella Villani, quindi è stata data fiducia a questa nuova generazione. Lei, oltre a essere un'attrice, scrive e canta, e devo dirti che la resa è molto bella, perché in realtà ci porta appunto dentro una visione in cui la vita sembra spegnersi, e in realtà Peter Pan, o lo spirito di Peter Pan, ci ricorda che in realtà siamo sempre un po' bambini, e che quello spirito che ci permette di aprirci la vita, ci può mantenere in qualche modo ad una visione non chiusa, e quindi non spenta, ma in realtà ci può far continuare a sognare, anche se ci sono dei lati oscuri di Peter Pan, quindi quest'ombra che incombe su un Peter Pan che non vuole crescere, o che se cresce non si concilia, diciamo così, con il mondo. Però molto bello, quindi questo invece, adesso se mi ricordo... All'elfo Puccini, fino a... All'elfo Puccini, andate sul sito e cercatevi le date. Faccio io... Comunque dovrebbe essere fino a domenica, sicuramente fino a domenica 3 marzo. Voi non sapete il dramma che sta vivendo Tamara Mallè in questo momento, che si è persa una data, c'è una data di 400, se ne è persa una basta. Oggi rimarrà tutto il giorno ad autoflagellarsi e punirsi per questa cosa. Va bene, ma noi ti assolviamo. No, però sicuramente fino a domenica lo potete vedere e ve lo consiglio. Brava, brava, brava Tamara, un po' di qualunquismo c'è al troneria che in questa trasmissione è sempre ben accetta, te lo ricordo sempre. No, no, bravissima, bravissima. E poi c'è da dire, andate sul sito e guardate le date, cioè diciamo, non è che il nostro pubblico non è pubblico intelligente, brava, ma poi il nostro pubblico è un pubblico sveglio, cioè va, quando tu parli è già lì sul sito a cercare di biglietti, quindi guardatevi le date, quelle che vi piacciono andate, non state a chiedere a Tamara. A questo tempo potete scoprire anche altri spettacoli interessanti. Ecco, ma che iscrivetecelo così almeno sappiamo anche dove andate. Va bene, Tami, grazie, grazie mille davvero, buona giornata e grazie del tuo Vediamo al teatro, buona settimana. Anche a te, grazie del tuo scouting che fai direttamente sul nostro territorio sempre di questi bellissimi spettacoli che ci racconti ogni giovedì. A giovedì prossimo, allora. Ciao, ciao, grazie mille, grazie mille a Tamara Malleo e alla sua abitudine del teatro. Andiamo avanti con un po' di musica perché fra poco poi torniamo qui. Ho già visto del vetro gli ospiti che arriveranno dopo questa piccola pausa. Parleremo di tante cose e lo facciamo qui in diretta sempre su Crystal Radio. Vi ricordo 331-78-535-555 il nostro numero di WhatsApp, il nostro sito cristallradio.it e la nostra app su iOS e Android. E poi, lo sapete, adesso c'è anche un nuovo sito internet in cui potete anche rivedere e riascoltare anche Tamara Malleo con l'abitudine del teatro che è goodmorning.milano.it sito Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Insomma, tutto quello che succede qui viene spezzettato e messo su come fosse una grande macedonia nel nostro sito goodmorning.milano.it Andiamo avanti con la musica quindi. Adesso sono i Coldplay con High Power. 8 e 22 minuti. A fra poco sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano. Coldplay High Power. Ma noi stiamo per andare in pausa, ve l'ho detto. C'è una piccola pausa e qualche consiglio per gli acquisti. Poi ritorniamo qui in diretta su Crystal Radio. A fra poco. E questo era il volo con Capolavolo. Dovranno chiamarlo un po' non Capolavolo ma Capolavolo visto che sono il volo. Comunque 8 e 33 minuti. Bentornati. Ultima mezz'ora in nostra compagnia. È la mezz'ora degli ospiti. Oggi parliamo con Silvia Cannonieri. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutte buongiorno a tutti buongiorno Fabio. Ecco benvenuta a Fondazione di Comunità Milano perché oggi ci presenti un bellissimo progetto arrivato alla terza edizione proprio riguardo cioè per i ragazzi e ragazze di Milano che possano sviluppare diciamo la loro creatività diciamo più o meno così ma tu lo sai dire sicuramente meglio di me. Che cos'è figurarsi? Figurarsi figurarsi è un contest creativo e lo stavi dicendo proprio nel nel modo più corretto un contest creativo che la Fondazione di Comunità Milano ha lanciato tre anni fa e appunto siamo alla terza edizione si rivolge a ragazze e ragazzi fra i 15 e i 24 anni e ha proprio l'obiettivo di dare opportunità alle ragazze e ragazzi di esprimersi di sentirsi protagonisti di prendere parola di dire la loro rispetto a un tema attraverso le arti le arti visive quindi la pittura la scultura la fotografia l'audiovisivo oppure le arti performative quindi musica teatro e danza e il tema di quest'anno è la mia città la mia città quindi invitiamo ragazze e ragazze ad esprimersi arte come leva per dire la loro questa è una come dire anche una strategia della Fondazione di Comunità Milano che con diverse attività la Fondazione di Comunità Milano è un ente filantropico un ente filantropico che è stato creato da Fondazione Cariplo nell'ambito del sistema delle fondazioni di comunità noi operiamo nel territorio di Milano e 56 comuni dell'Interland quindi dalla Martesana fino al sud ovest Cucinasco Corsico dalla Martesana al Naviglio Pavese per rimanere sulle acque più in là forse del Pavese forse anche Naviglio Grande esattamente mi sembra un'ottima per collegare Milano con città d'acqua esattamente e niente quindi appunto rivolgiamo alle ragazze e ragazze alle persone più giovani diverse iniziative e appunto nell'ambito dell'arte e della cultura abbiamo questo programma che si chiama Creatività Giovani all'interno del quale abbiamo promosso negli anni diverse iniziative e adesso uno di questi appunto è il contest Figurarsi ma abbiamo in questo momento anche in corso un premio scrittura giovani che scadrà che invita ragazze e ragazze a inviare delle loro opere di scrittura creativa ma anche graphic novel e fumetto e le ragazze e ragazze hanno tempo per farlo fino all'11 di marzo poi abbiamo appunto il contest Figurarsi su cui magari vi racconto qualcosa in più e un'ultima iniziativa che stiamo portando avanti con sei enti operatori culturali del territorio sono sei musical di comunità musical di comunità che cos'è il musical di comunità? è un musical quindi un vero e proprio musical quindi si balla e si canta si balla si canta ma si fa anche si recita si fa anche backstage quindi trucco parrucco scenografia tutto quello che serve per costruire un musical e chi lo fa? lo fanno le ragazze e ragazzi anche lì fascia d'età 15-24 ragazze e ragazzi alcuni che avevano già delle esperienze in ambito artistico altri invece che sono del tutto dei neofiti ma si sono lanciati in questa esperienza sono partiti già da diversi mesi accompagnati da professionisti del settore e insieme hanno lavorato e stanno lavorando dall'ideazione alla poi messa in scena di questi sei musical di comunità dove saranno le zone precise sono invece sparsi nel territorio come funziona? saranno sei musical sparsi nel territorio fra maggio e giugno andranno in scena fra maggio e giugno con una prima e due repliche le prime saranno in luoghi un po' più centrali della città le repliche anche invece in luoghi un po' più periferici andremo nella periferia anche esattamente l'obiettivo è anche questo ma noi siamo qui per parlare di figurarsi allora ne parliamo fra pochissimo dopo un intermezzo musicale così direbbe qualcuno di più bravo di me ma soprattutto dopo un Diodato che torna da Sanremo con un ennesimo successo lui che di successi ne ha incanalati scusate non ha incanalati un bel po' e uno di questo è questa T-Muovi direttamente appunto da Sanremo 2024 e questo era Diodato con T-Muovi e dovete muovervi anche voi se volete partecipare a figurarsi perché sta per iniziare tutto l'iter molto lungo ma che non dovete prendervi nessun passaggio perché figurarsi Silvia è un progetto che veramente vedrà il suo culmine a ottobre giusto di quest'anno il 2024 ma ha tanti piccoli passetti da fare insieme che iniziano già oggi in questi giorni come funziona e come inizia qual è l'iter e cosa succederà appunto cosa sarà figurarsi sì il figurarsi appunto come diceva un contest un contest che è già pubblico per cui sul nostro sito che è fondazionecomunitamilano.org è già disponibile in home page le ragazze e ragazze interessati che hanno voglia di sperimentarsi in un prodotto artistico in un'opera artistica possono già inviare una propria candidatura ma come funziona? questa edizione l'abbiamo pensata un po' per step nel senso che considerato che chiediamo alle ragazze e ragazzi di presentarci delle appunto delle opere artistiche inedite cioè non protette già non coperte già da diritti sia ma che magari hanno lì nel loro cassetto e quindi insomma magari l'hanno già performata l'importante è che sia inedita quindi non coperta dai diritti che sia frutto di una loro creazione altri invece appunto devono creare l'ex novo per cui abbiamo pensato di dargli tutto il tempo necessario per farlo quindi primo step i ragazzi possono andare sulla pagina di figurarsi inviarci nome e cognome tipologia di arte nella quale vorrebbero presentare una loro opera e quindi candidarsi per il progetto e ci mandano se ci mandano questa candidatura che noi abbiamo chiamato preiscrizione entro il 22 di marzo noi poi li invitiamo a un workshop creativo formativo nel quale ci saranno delle figure esperte che gli daranno che daranno loro degli input degli stimoli dei trick dei consigli per tradurre la loro idea artistica in un'opera quindi c'è questo passaggio formativo che è proprio una sorta di accompagnamento in più ma ci saranno anche in questo periodo in questi primi mesi diciamo di apertura del contest ci saranno anche altre opportunità che sono volte a facilitare la produzione artistica dei ragazzi e delle ragazze ad esempio stiamo creando una rete con alcuni operatori soci culturali piuttosto che spazi per l'aggregazione giovanile nel quale i ragazzi e le ragazze potranno andare ad esempio a fare riunioni a incontrarsi perché le opere prodotte possono essere opere individuali ma anche opere di gruppo opere collettive per cui hanno questo tempo per pensare per produrre se vogliono si possono anche formare attraverso il workshop e poi entro la fine di giugno devono inviare la loro candidatura e la loro opera quindi a quel punto loro sono formalmente concorrenti ricordiamo bene che tipo di opere si possono iscrivere e mandare a figurarsi opere nell'ambito delle arti visive quindi pittura scultura audiovisivo fotografia un cortometraggio anche un videoclip esattamente nel bando ci sono dei parametri una canzone anche volendo anche questo arti performative invece abbiamo musica teatro e danza però all'interno appunto del regolamento del contest del concorso ci sono anche delle specifiche quindi ad esempio il progetto fotografico non può superare le dieci foto perché abbiamo dato esatto abbiamo dato qualche parametro per orientare un po' i ragazzi e le ragazze nella produzione però il tema la mia città e opere inedite ecco opere inedite il tema la mia città e tutte le opere appunto che devono essere possono essere sia singole che collettive dicevi cosa interessante quindi è bello anche pensare che magari possono nascere dei gruppi magari anche dai workshop chissà nascono fuori dei gruppi che potranno proporre qualcosa sarebbe molto bello qualcosa insieme e bene bellissimo e che vinco è questo so che questa domanda si stanno facendo chi ci sta ascoltando in questo momento bello bellissimo ma che cosa porta a casa cosa vinco non me lo dire adesso me lo dici fra poco prima una canzone poi rimanete con noi perché vi diciamo cosa si vince le varie categorie sono anche vari premi giusto non vince solo uno diciamo però dovete impegnarvi perché sarete in tanti sicuramente a voler portare a casa il premio dell'edizione 2024 di figurarsi appunto fondazione di comunità milano The Kid Leroy stai insieme a Justin Bieber 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 alle 8 e 47 minuti qui su Christian Radio giovedì 29 febbraio stiamo parlando appunto di figurarsi terza edizione quella del 2024 dove ci sono tanti ricchi premi e continuano di questi casi sono dei premi e categorie spiraci un po' Silvia come funziona cosa possiamo io no ma i ragazzi che parteciperanno cosa rischiano di vincere cosa rischiano di vincere cosa auspicano di vincere dunque in primo luogo tema categorie tema categorie noi abbiamo ogni disciplina artistica fondamentalmente è una categoria per cui abbiamo in tutto sei discipline artistiche tre di arti visive tre di arti performative per cui ci saranno di base sei vincitori uno per ognuna delle sei ma siccome abbiamo una fascia d'età molto ampia 15-23 anni e mettere insieme un 15enne con un 23enne magari un ragazzo che sta approcciandosi al mondo dell'arte con qualcuno che magari sta già facendo delle scuole che vanno in quella direzione ci è sembrato un po' così poco ci è sembrato più opportuno suddividerli splittarli splittarli in due i teen e gli young quindi detta in maniera più easy i minorenni e i maggiorenni per cui ci sono anche due chiamiamole categorie per fascia d'età questo per dire che alla fine della fiera i premi saranno 12 12 premi economici per 6 vincitori teen 6 vincitori young i più grandicelli i maggiorenni avranno un premio economico di 1500 euro insomma 1500 euro che non sono per nulla pochi e che potranno utilizzare o per percorsi formativi ok iscriversi a un corso pagarsi una rata dell'università oppure per acquistare delle attrezzature strumenti per portare avanti la loro passione artistica la chitarra più su questo che una bella macchina di fotografia viene fuori ad esempio 1500 euro o un pc di quelli insomma anche lì un bel mac viene fuori esattamente esattamente e quindi insomma 1500 euro non è per nulla poco mentre per i più piccolini ci saranno dei premi come dire inferiori economicamente perché saremo sull'ordine dei 500 euro che comunque per un 15-16enne non è per niente male anche perché oltre ai premi economici noi avremo anche delle menzioni speciali avremo come abbiamo avuto nelle edizioni precedenti questo network di amici di figurarsi quindi enti dell'ambito culturale artistico che mettono a disposizione delle ragazze dei ragazzi delle esperienze immersive per cui ad esempio uno stage di danza un abbonamento al teatro per la stagione 2024-2025 per cui oltre ai 12 premi ci saranno anche le menzioni speciali le menzioni speciali che verranno poi svelate nel corso dell'evento finale che si terrà ad ottobre per cui tutti i concorrenti poi sono invitati caldamente a partecipare all'evento finale che è un momento di festa anche un po' di clubbing in qualche maniera oltre che di premiazione in cui saranno svelati i vincitori e anche le menzioni speciali tutto questo lo possiamo approfondire immagino su un sito qual è? il sito della fondazione di comunità milano è fondazione comunità milano punto org ovviamente senza l'accento sulla A quindi fondazione comunità milano tutto attaccato e sui nostri canali social sia Instagram che Facebook e quindi avete tutte le informazioni che vi servono mi raccomando iscrivete la prescrizione la prescrizione fino alla fine di marzo fino al 22 marzo esatto e mentre invece la candidatura delle opere fino alla fine di giugno tempo ne avete fatevi un giro cercate di capire cosa volete proporre per portarvi a casa questi bellissimi premi e anche magari portarvi a casa io devo dire che già solo il workshop secondo me sono dei premi niente male perché insomma già fare informazioni insieme a professionisti che magari ti aiutano in quello che già ti piace che hai imparato dai tutorial su YouTube e insomma invece impararlo con dei professionisti che te lo spiegano deve essere davvero davvero interessante noi questo concorso lo realizziamo con un partner tecnico fin dall'inizio per noi preziosissimo che sono le scuole civiche la fondazione Milano scuole civiche quindi la scuola Paolo Grassi a Bado quindi chi meglio di loro e molti dei professionisti vengono da loro per cui sono veramente di altissimo livello benissimo Silvia allora io ti ringrazio tantissimo quando hai qualche novità vieni pure qua raccontarci perché siamo contenti di avere te e la fondazione di comunità Milano qui con noi a Good Morning Milano grazie buon lavoro e adesso puoi ritornare in città e affrontare anche tu la mia città la mia città ecco perfetto e vedremo magari no non puoi candidarti tu sono un po' agente facciamo una menzione speciale per te va bene Silver Age mi piace va bene grazie grazie mille grazie mille Silvia Cannonieri grazie mille continuiamo con la musica e poi torniamo qui a salutarci perché manca pochissimo alla nostra sigla ma prima Mahmood tuta gold Mahmood tuta gold 8 e 56 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi giovedì 29 febbraio di Good Morning Milano sempre qui in diretta per raccontarvi la grande città e allora creativi di tutta la città unitevi e potete raccontare la vostra città con il progetto Figurarsi avete ancora tempo fino al 22 marzo per iscrivervi ai workshop anzi per fare la prescrizione e poi fino a maggio appunto per proporre le vostre opere ma andate sul sito di Fondazione Comunità di Milano e avete tutte le indicazioni sicuramente anche più precise di quelle che vi sto dando io in questo istante dopo di noi lo sapete benissimo tutti in coro insieme Ambrogio Curti eh sì consenti questa chissà cosa ci fa sentire oggi lo sapete io qualcosa ho in mente perché ricordatevi che a lunedì noi abbiamo sempre Ambrogio qua che ci racconta che cosa ci farà ascoltare durante la settimana sicuramente bella musica belle storie raccontate perfettamente dalla grandissima voce di Ambrogio Curti il sole sta un pochino facendo capolino attraverso le nuvole sopra la nostra città o meglio comunque non piove e già questo secondo me è un gran bel risultato per oggi da portarci a casa domani è venerdì e noi siamo ancora qui e sì perché chiudiamo la settimana così con un primo marzo insieme qui a Good Morning Milano su Crystal Radio come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in diretta dagli grandi studi di Milano All News in quel di San Siro ciao domani a tutti i giorni a tutti i giorni